Un debole fronte freddo è in transito sulla penisola e porta al suo seguito un deciso calo delle temperature, soprattutto sulle zone centro-settentrionali. In Toscana, mercoledì 26 luglio soleggiato, contemporanei addensamenti sulle zone interne, associate a brevi occasionali piovaschi a carattere isolato, venti moderati di libeccio con rinforzi su coste arcipelago, mari molto mossi o agitati in attenuazione nella seconda parte della giornata, temperature insensibile calo, soprattutto le minime, massime intorno ai 30 gradi. Sul territorio provinciale cielo sereno poco nuvoloso, a Lucche sulla Piana temperatura minima 20, massima 29 gradi, a Castelnuovo Garfagnana e zone montane minima 16, massima 27, a Viareggio sul litorale minima 21, massima 29 gradi. Giovedì, tempo stabile.